Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ed attenti al lupo, questa sera grande richiesta perché ci avete davvero inondato di domande e vi ringraziamo per l'attenzione, parleremo della quattordicesima, della cosiddetta quattordicesima dei pensionati, parleremo di pensioni con tante novità, soprattutto state a sentire la novità che vi diremo nel corso della trasmissione perché molti di voi a casa hanno fatto questo ricorso per quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni, vi lo ricordate? E beh qualcosa si è mosso, vi diremo tutto nel corso della trasmissione, quindi seguitici con attenzione, ma come sempre partiamo da una domanda dei nostri telespettatori, Maris, buonasera. Buonasera a te Giuseppe, ai nostri ospiti, ai nostri telespettatori, come dicevi in tanti ci hanno scritto, abbiamo scelto la lettera che ci ha mandato la signora Lucia dalla quale vogliamo partire e allora vi leggo subito cosa ci dice. Spettabile, attenti al lupo, so che avete già trattato il tema della cosiddetta quattordicesima per i pensionati, ma purtroppo non ho avuto modo di seguire la puntata, vorrei quindi chiedervi qualche informazione. Io percepisco una pensione di reversibilità di 820 euro netti ed è la mia unica entrata. Aspetta anche a me questo bonus aggiuntivo, devo chiederlo io all'Inps e in che modo verrà pagato? Cioè in un'unica soluzione o ripartito in più mesi? Spero possiate rispondermi senza altro Lucia, lo facciamo subito. Tante domande da parte di Lucia Di Viterbo. Buonasera ai nostri ospiti. Patrizia Volponi, segretaria nazionale dei pensionati della Cisla. Fabio Fortuna, economista rettore dell'Università Nicolò Cusano. Buonasera professore. Allora, partiamo segretario nel dare una prima risposta, sono tanti quesiti. No, la signora non ci ha dato un dato importante, l'età nagrafica, perché innanzitutto la quattordicesima hanno diritto alla quattordicesima soltanto coloro che hanno compiuto 64 anni o li compiono nel corso dell'anno di Nessere, in questo caso se li compiono dopo il primo di agosto la quattordicesima l'avranno a dicembre. Quindi la signora non ci ha dato un dato importante, non possiamo sapere se la signora ha i 64 anni, comunque le pensioni di reversibilità che a tutti gli effetti sono pensioni di tipo contributivo, hanno diritto a percepire la quattordicesima e credo, la signora ci ha detto che percepisce 820 euro netti, dovrebbe rientrarci perché la cifra massima che si può raggiungere l'orda sono 13.049,14 euro. Io credo che la signora non dovrebbe superare, facendo un calcolo veloce, 12.500 euro per cui ritengo che ne abbia diritto. Potrebbe rientrare. Professore, quello che è successo, perché ci siamo anche noi un po' fatti una serie di domande dopo l'ultima puntata, sono arrivate centinaia, decine, centinaia di domande sulla questione della quattordicesima, la gente ha necessità, ha desiderio di quei soldi che sono pochi ma sono indispensabili. Che sta succedendo? Beh, meglio poco che niente. Poi quando si sente quattordicesima si pensa subito a qualcosa di aggiuntivo rispetto alla tredicesima. Non riguarda solo i pensionati, vogliamo fare questa visitazione, può riguardare anche categorie di lavoratori differenti, purché sia prevista nell'ambito del contratto di collettivo di lavoro. Dal primo luglio riguarda la quattordicesima dei pensionati. I pensionati ovviamente hanno redditi limitati spesso e quindi vedo di buon occhio e hanno desiderio di sapere quali siano i requisiti di accesso. Uno già l'ha detto. Ecco, possiamo spiegargli i requisiti? I requisiti è aver compiuto 64 anni di età, aver versato contributi per un minimo di 15 anni e poi la quattordicesima è commisurata a seconda di quanti anni si siano versati i contributi, 15, 20, 25. E poi abbiamo come ulteriore requisito, Patrizia lo stavi accennando, quello del reddito. Il reddito che deve essere non superiore a due volte il minimo pensionistico. E c'è stato, poi lo spiegheremo, insomma c'è anche un cambiamento rispetto al passato. Sicuramente diciamo che la signora avrà diritto questa volta alla quattordicesima perché grazie all'accordo siglato il 28 settembre del 2016 abbiamo fatto in modo che percepissero la tredicesima un milione e duecentomila persone in più grazie ai sindacati, all'impegno dei sindacati e prima era soltanto fino a una volta e mezzo il minimo IMSS. Quanto è? Possiamo tradurre il segretario? Una volta e mezzo perché la gente da casa poi va a vedere sulla propria pensione. Allora, prima era fino a 9.786,86 lordi annui. Grazie all'accordo dello scorso 28 settembre alla finanziaria del 2017 è stato portato l'ammontare a 13.049,14 e quindi persone come la signora, nel caso abbia comunque con più di 64 anni, percepiranno la quattordicesima che sarà pagata dall'IMSS direttamente in automatico in una sola soluzione. Non sono mai stato bravissimo in matematica a scuola, però facendo una piccola traduzione del tutto, 13.000 euro lordi l'anno sono al mese una pensione media sui 1.000 euro. Più o meno. 1.000 euro prendono, prenderanno, prima era 7.50. Prima era 7.50. Prima era 7.50, ora è 1.000, prenderanno quindi questa quattordicesima che poi vi diremo scatterà il primo luglio, vi diremo tutte le indicazioni tra poco, ma prima diamo i riferimenti a casa. Esattamente, ricordiamo il numero verde che vedo che già in tanti conoscono bene, però per chi ancora non l'avesse segnato prenda carta e penna perché è gratuito anche per i cellulari, quindi per partecipare alla diretta dovete chiamare l'800 508 990, potete anche lasciare messaggi in segreteria lasciando le vostre domande, se volete potete anche scriverci su Facebook o su Twitter, è semplicissimo, basta cercare ovviamente, attenti al lupo. E allora, prima di sentire, prego professore. No, volevo dire, quindi l'interesse è cresciuto sia perché è stato ampliato il numero dei destinatari con l'ampliamento da 7.50 da una volta e mezzo a due volte e questo ovviamente ha generato un maggior interesse e poi è stata anche aumentata la quattordicesima in relazione a coloro che già la percepivano, grosso modo del 30%, non parliamo di grandi cifre. Chi la percepiva in passato, in precedenza, avrà una crescita del 30%, chi invece è un nuovo arrivato che rientra in questa platea? Facciamo un esempio concreto, un nuovo arrivato con una pensione fino a 9.700 euro percepirà a 457 euro di tredicesima, mentre un nuovo arrivato con una pensione di 1.000 euro percepirà 330 euro. Chi già la percepiva, come ha detto il professore, l'avrà aumentata rispetto all'anno scorso del 30%. 30%, ma vogliamo cercare di capire, beh, questa quattordicesima abbiamo chiesto ai pensionati in giro, in strada. Beh, che cosa ne faranno i pensionati? E sentite che è uno spaccato sociologico, in qualche modo, quello che ha tracciato per noi Marta Manzo. Lei che ci farebbe con la quattordicesima? Eh, oddio, tapperei qualche buco, a parte che sa anche la danno, a me sa che non mi tocca. Ma manierei? Ho tre nipoti a spasso? Sì. Tre. E non c'è un lavoro. Tu con mia figlia a spasso. Che gli devi dare mangiare? Il nonno? Che ci fai? Con un mese in più? Terrei a casa lo stesso io. Con un mese in più guarda che non risolvi niente. Ci pagherei le spese che le pensioni non sono in grado più di coprire dopo la bella idea di Renzi di bloccare l'aggiornamento delle pensioni. Ci camperei un po' meglio tutti i mesi dell'anno perché li ammortizzerei mesi per mese. Quindi li userebbe per spenderli? Per spenderli per la spesa, per tutte le cose normali. Non ce l'ho, quindi non faccio progetti. Però se ci avessi, insomma, andrei in ferie. Senz'altro. Che ci farei? Camperai meglio? E vi darei tanti mal di testa durante il mese? Beh, sarei un po' meglio io e poi darei qualcosa ai figli. E beh, provvederei un pochino. Ci stanno le tasse da pagare tra spazzature e l'aria. Ah, ma e tutto il resto mi pare che ottimamente arrivi proprio ad hoc. Ci pagherei un po' di bolletti perché le tasse ne pago già tante. Un po' di tasse, ma tanto sono sicura che non me la danno perché io la fortuna non ce l'ho. Da quando sono in pensione sono dieci anni che non prendo un euro di aumento. Mai, mai, mai. Figuriamoci se mo' ci danno la quattordicesima. Magari. Manca la quindicesima, la sedicesima, la raddoppiassero. Ma a me sa che non è una cosa molto facile. Vero? Le difficoltà oggettive, segretario. Insomma, lei le vede tutti i giorni pensionati lungo la penisola. Vivono veramente un momento, una stagione delicatissima perché all'inizio hanno aiutato i nipoti, i figli. Ora sono finiti quei soldi. I soldi sono finiti. Il potere di acquisto è limitato. E le pensioni non sono state rivalutate. E ne parleremo, non ci tocchi questo argomento, ne parliamo dopo. Dopo la rivalutazione vi daremo una notizia importantissima, ma tra pochissimo. Allora, qual è la situazione, il polso? Qual è l'esigenza primaria dei pensionati in questo momento? L'esigenza primaria dei pensionati innanzitutto è il lavoro per i figli. E non solo per i figli, ma anche per loro stessi. Perché ricordiamoci che il sistema pensionistico italiano è un sistema solidaristico a ripartizione. Vale a dire che le pensioni vengono pagate con i contributi degli attivi. Per cui il lavoro è al primo posto. E i pensionati hanno un problema solo. Il secondo posto, professore, posso dire la difficoltà sanitaria. Perché la gente, ormai i pensionati, non riescono a comprare le medicine. Peraltro a fine anno, siamo nel periodo della dichiarazione dei redditi, si va a un CAF, si fa la dichiarazione dei redditi, e si riesce ad avere un rimborso minimo rispetto alle spese necessarie quotidianamente nell'acquisto di farmaci da parte dei pensionati. Sì, questo è un discorso molto complesso. Bisogna invalzare questo livello. Sì, è un discorso molto complesso perché la spesa sanitaria sembra sempre insufficiente. In realtà circa 115 miliardi di euro riguardano la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale. È una cifra che è cresciuta poi. Questa è una cosa un po' buffa, perché tutti pensano che la spesa sanitaria sia diminuita nel corso del tempo. Dal 2001 lo stanziamento per la sanità è sempre aumentato, poco, ma è sempre aumentato. Il problema è che bisognerebbe organizzare le cose in modo più efficiente. Cioè che risponde alle esigenze di un paese che sta cambiando. Che sta cambiando, certo. E quindi che ha necessità di affrontare soprattutto le questioni sanitarie. Una sola notazione. Prima si parlava anche dei pensionati che cercano lavoro, perché in effetti alcuni pensionati, soprattutto lavoratori autonomi, che hanno pagato pochi contributi, hanno necessità di lavorare. Io sento casi di gente che ha 65 anni... Chi è un lavoratore autonomo e va in pensione con le pensioni proprio davvero minime, contributi pochi versati, hanno versato pochi contributi, e quindi devono assolutamente lavorare fino all'ultimo giorno. Comunque la 14esima aspetta anche lavoratori autonomi. Aspetta anche lavoratori autonomi. Allora, Maris... Allora, andiamo subito a casa dei nostri telespettatori. Giuseppe, precisamente in provincia di Cosenza, a casa del signor Antonio. Buonasera, Antonio. Buonasera a voi e complimenti per la trasmissione. Volevo sapere, una poverina che prende 500 euro, dove paga l'affitto di casa, luce, telefono, eccetera, eccetera, cosa rimane? Perché ci sono i politici che loro si prendono un sacco di soldi e quindi non pensano a questi pensionati che prendono 500 euro e non possono cambiare. E questa è una vecchia storia, Antonio. La sua domanda... E' un'altra cosa, la mia domanda... E questa è una domanda che volevo fare. No, però un'altra cosa, la mia domanda è, per la quattordicesima è solo un mese che la danno? E poi volevo dire, non bisogna superare il reddito, le disegni, oppure è solo questo mese di luglio che la danno e poi basta? Bene, vogliamo di rispondere. Allora, ne ho fatto 3-4 domande. Innanzitutto, è solamente a luglio, arriva la quattordicesima. Si chiama quattordicesima perché dopo la tredicesima di Natale c'è una somma aggiuntiva in più, detta normalmente quattordicesima. Possiamo dire quanto sarà, minima e massimo, ognuno si farei sui calcoli. Allora, la quattordicesima minima sarà 336 euro, la quattordicesima massima sarà 655 euro e viene erogata in base all'età nagrafica, ripetiamolo, 64 anni del lavoratore in pensione, che ha versato contributi per almeno 15 anni, nel caso che ha versato 15 anni avrà il minimo, nel caso che ha versato oltre 25 anni avrà il massimo. L'ISE? 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 In qualche modo rientra, bisogna tenere come riferimento? No, 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 nella quattordicesima non c'è nessun riferimento ad ISEE, però c'è riferimento al reddito individuale, soggettivo della persona. No, volevo dire, per quanto riguarda i loro dolori autonomi, c'è una maggiorazione di 3 anni su queste fasce di contribuzione. 18? 18, 23 e 28. Allora, per capire poi concretamente a casa le persone come la riceveranno, abbiamo sentito il massimo esponente dell'Inps, il direttore centrale delle pensioni dell'Inps, Luca Sabatini, che ci spiega proprio cosa succederà il primo luglio per i pensionati per la cosiddetta quattordicesima. Sentiamo. Come funzionerà dal primo luglio l'accredito della cosiddetta quattordicesima? L'Istituto ha elaborato il pagamento della quattordicesima ad ufficio, per cui i soggetti beneficiari non dovranno fare domanda, anche del settore pubblico, e questa è una novità, perché l'anno scorso invece era richiesta una domanda, e a luglio verranno, nella rata di luglio, verranno riconosciute questa somma aggiuntiva della quattordicesima. Come platea generale quest'anno stiamo parlando di circa 3 milioni e 400 mila soggetti, quasi un milione e 400 mila soggetti in più rispetto all'anno scorso, perché la scelta del legislatore ha ampliato notevolmente la platea dei destinatari. Di che importo parliamo? Sono importi variabili in relazione anche all'anzianità contributiva dei soggetti, all'appartenenza alla fascia fino a 1,5 volte il trattamento minimo, perché ci sono dei limiti reddituali, o due volte il limite, anche questa è una novità. Quindi sono importi variabili e possono appunto discendere da una serie di fattori. L'importo più elevato è di circa 655 euro. Qualora non dovesse arrivare questa quattordicesima nei primi giorni di luglio, che cosa bisogna fare? Per la generalità abbiamo detto che è una costituzione di ufficio e quindi verrà data comunque una comunicazione, quindi una lettera verrà inviata ai destinatari. Qualora il soggetto ritenga di averne diritto e per qualsiasi motivo non è arrivata, può comunque fare domanda, è una domanda specifica, di ricostituzione relativa alla quattordicesima e verrà in quel caso inserita nel primo rateo utile di pensione. I consigli utili, importanti, innanzitutto che viene accreditato in maniera automatica, perché c'era questo problema, in tanti ci hanno scritto che bisogna fare una domanda perché la gente è sempre preoccupata. Per la quattordicesima non bisogna fare nessuna domanda perché l'Inps in automatico, in base al reddito di cui è a conoscenza del soggetto, del pensionato, pagherà la quattordicesima, il primo giorno bancabile del mese, che nel luglio credo sia il primo esattamente. E quindi non va fatta nessuna domanda. Qualora il pensionato non dovesse ricevere la quattordicesima e fosse convinto di averne diritto, si deve regare a un padronato Inas della CISL e fare una domanda che in via prioritaria l'Inps risolverà. E quindi poi subito nel primo rateo disponibile l'Inps pagherà la quattordicesima. Mi piace ricordare, professore, quella forbice che diceva il segretario prima. Insomma, un minimo saranno 350 euro, il massimo saranno 700 euro, 355 euro, che sembrano pochi, ma per un pensionato sono vitali. Ma sono vitali per un pensionato. Prenderli a luglio, magari, come abbiamo sentito anche nel primo servizio... Preso in assoluto come numero, sembrano pochi. Rapportato all'entità della pensione normale che il pensionato percepisce, hanno una significatività, non solo, ma anche in assoluto, perché dispone di redditi limitati, avere 655 euro in più, comunque qualche significato. Posso dire, professore, se mi permette, è anche un modo, insomma, dignitoso, perché poi il pensionato, in qualche modo, viene sempre un po' calpestato da tutti. Sì, è un modo dignitoso, come dice lei. Perché voglio dire, poi alla fine gli aumenti non vengono fatti, perché si dice, vabbè, i pensionati già sono fortunati ad avere quell'assegno previdenziale. In realtà è un'attenzione, possiamo dire, per chi, per i saggi del nostro paese, sono persone sagge. Esatto, e soprattutto a livello psicologico, secondo me, può avere un'incidenza per sopportare meglio tutte quelle difficoltà che derivano dall'avere a disposizione dei redditi molto bassi. L'ho fatta al professore perché con lei sfondo una porta aperta. Sì, assolutamente, assolutamente. Comunque ricordiamo pure che la quattordicesima è stata introdotta grazie all'impegno dei sindacati con una legge del 2007, con la legge 81 del 2007, la legge Prodi, ed è andata, è la prima volta che è stata percepita, è stata a luglio del 2008, ed è stata aumentata anche come numero di beneficiari grazie all'intervento dei sindacati con l'accordo. E questo è vero, perché i sindacati spesso vengono anche un po' attaccati, in realtà hanno fatto una battaglia, una grande battaglia, che ne abbiamo parlato tante volte in questa trasmissione, proprio seduti con il ministro, insomma, cercando di tirare il più possibile per aumentare la platea. E mi sembra un riconoscimento che vada da tutti i sindacati. Soprattutto anche nel quadro generale di miglioramento delle condizioni dei soggetti che hanno maggior bisogno, perché in Italia non dimentichiamo che abbiamo più di 4 milioni di persone in porto assoluta. Adesso c'è stato anche qualche altro provvedimento, speriamo di migliorare in modo significativo in questi campi. Le domande, Maris, rapidamente. Allora, rapidamente, Cellina su Facebook ci ha mandato un messaggio privato e dice, vorrei sapere se chi percepisce la pensione di invalidità di circa 289 euro al mese, dal mese scorso, da maggio, ha diritto alla quattordicesima. Allora, l'invalidità, se per la signora percepisce l'invalidità civile che è ritenuta una forma assistenziale, non ha diritto ad alcuna quattordicesima. Soltanto l'invalidità ordinaria, quella che si può conseguire per l'incidente sul lavoro, quindi per la quale ci sono i contributi, solo quella dà diritto a percepire la quattordicesima. E allora, è arrivato il momento di parlare della rivautazione. Quante persone hanno fatto una domanda per richiedere la rivautazione delle pensioni negli scorsi mesi? Ve lo ricordate? In tantissimi ci hanno scritto, abbiamo fatto tante trasmissioni. C'è una novità importante per tutti voi. Tra qualche istante, subito dopo la pubblicità, lo faremo dire direttamente dal segretario dei pensionati della CISL. Qualche istante è la novità, ve la dice lei. Entriamo in studio, stiamo parlando delle pensioni. Allora, la domanda è sulla rivautazione delle pensioni, dopo la decisione che prese la loro premier Renzi, che bloccò in qualche modo tutta la questione della rivautazione delle pensioni. Voi avete fatto ricorso, tantissimi pensionati in tutta Italia hanno fatto ricorso. Tanti ci chiedevano, ma a che punto è perché sono passati i mesi? La giustizia è sempre un po' lenta. La novità qual è, segretario? Allora, noi siamo molto soddisfatti perché finalmente la Corte Costituzionale ha ricepito le sentenze di rinvio e il 24 ottobre di questo anno, del 2017, ci sarà la prima udienza sulla incostituzionalità del decreto 65, tramutato in legge 109, che l'allora governo Renzi emise per bloccare una sentenza della Corte Costituzionale, la 70 del 2015, che diceva che era illegittimo il blocco delle pensioni. Se dovesse pronunciarsi favorevolmente per chi ha fatto queste richieste, professore, dovranno in qualche modo dare questi soldi ai pensionati, ma tutti anche a chi non ha fatto ricorso o solamente alle persone che hanno fatto ricorso? Perché questo era un problema di cui già si parlava un paio d'anni fa quando è cominciato a diffondersi il discorso della rivalutazione. Quindi dobbiamo attendere cosa dirà la Corte Costituzionale, perché c'è anche il discorso di tutte le somme antecedenti, gli arretrati che probabilmente però... Insomma, bisogna aspettare. Però la data è quella, 24 ottobre. Io direi segnatevelo da questa data perché è importante. Noi siamo veramente molto soddisfatti perché da sempre siamo stati convinti dell'incostituzionale di questo decreto e tutti i tribunali della Repubblica e le Corti dei Conti l'hanno rinviato per incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Le nostre mamme, le nostre nonne hanno quei calendari spettacolari che hanno tutti i quali in cui segnalano tutti, gli onomatici, i compleanni, perché loro sono molto attenti rispetto a noi. Io direi cerchiate il 24 ottobre perché poi ne vedremo delle belle. Maris? Allora, ci sono diverse domande. Volevo prima porvi l'attenzione di quella della signora Pasqualina che ci ha chiamato da Varese e ci dice che lei è in pensione da 5 anni. Percepisce una pensione di 800 euro netti, però lei fa la parrucchiera quindi ancora lavora, continua a versare dei contributi. Voleva sapere se quindi le spetterà o meno la 14esima. Professor Fortuna? Beh, bisogna vedere qual è l'entità del reddito complessivo. Se questi redditi ulteriori la portano al di sopra del limite che abbiamo detto intorno ai 13.050 euro, purtroppo non ha diritto alla 14esima. Altra domanda. Sandra, dalla provincia di Viterbo, alla quale mandiamo un bacione, ci raccontava la sua storia. Da 20 anni è vedova e percepisce una reversibilità di 760 euro. Ci raccontava che il marito ha versato 43 anni di contributi, però lei non ha mai ricevuto la 14esima. vuole sapere perché e se le arriverà. Allora, la signora innanzitutto noi non sappiamo se ha compiuto i 64 anni famosi che sono il limite di età per poter avere diritto alla 14esima. Come reddito da pensione ci rientrerà sicuramente, forse la signora ma anche il requisito dell'età. Ricordiamo che chi percepisce una pensione sociale non ha diritto, perché non ha versato i contributi e quindi non ha diritto a questa 14esima. La 14esima è solo per pensioni contributive, con almeno 15 anni di contributi per i lavoratori dipendenti e 18 anni di contributi per i lavoratori autonomi. Chi invece ha pensione, già aveva 600 euro di pensione, già l'ha avuta in questi anni, non si è mai fermata. La 14esima l'avrà maggiorata. L'avrà maggiorata di un 30%. Di un 30% in più rispetto a quello che prendeva prima. Quindi 30% in più rispetto al passato dal primo luglio. Maris? Allora, un'altra domanda, e non mi funziona il pc, posso per fortuna leggere da qui sempre su Facebook. Fiorella ci scrive. Buonasera, mio marito. 65 anni e ho un reddito lordo di 12.700 euro, con 40 anni di contributi. Quest'anno avrà diritto alla 14esima? E un'altra domanda molto frequente da altri telespettatori, quanto gli spetterà? Vogliono sapere più o meno quanto arriverà? Allora, iniziamo. 40 anni di contributi, va bene. 65 anni. Il massimo proprio era. Quanto era il lui? 65 anni d'età, 12.000 euro. L'orde. Allora, 12.000 euro, l'orde sono di pensione. Bisogna vedere se il signore ha comunque altri redditi, perché il reddito individuale non deve superare i 13.046,14 euro. Per cui sono esclusi il reddito prima casa, sono esclusi gli eventuali accompagni o altri benefici di tipo assistenziale, però gli altri redditi vengono sommati. Se uno ha una seconda casa, oppure interessi bancari o quant'altro, che fanno reddito, se ha fatto la dichiarazione dei redditi, ha superato questo limite, non la percepisce. In questo periodo diciamo facilmente, professore, perché il momento e la stagione è anche la dichiarazione dei redditi, quindi uno ha una fotografia reale della propria situazione, eppure in qualche modo può verificare una serie di elementi. Ma noi dobbiamo dire anche una cosa molto importante, che i pensionati devono stare molto attenti, perché i pensionati di età compresa fra i 64 e i 75 anni, che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 730, nell'unico, sono obbligati a presentare i redditi entro giugno all'Inps, perché altrimenti l'Inps revoca la quattordicesima. Quindi coloro che percepivano la quattordicesima e non hanno presentato dichiarazione dei redditi, devono presentare i redditi. Per poter ottenere la quattordicesima. Questo è molto importante, perché una volta l'Inps mandava gli avvisi, adesso non avvisa più, quindi bisogna ricordarcelo. E mi sembra una cosa importante. Penso che siamo in chiusura. Un'ultima domanda, Maris, proprio telegrafica. La signora Anna da Napoli ci dice, pensionata sociale con figli a carica, un viso va? Pensioni sociali sono esposte. Pensioni sociali perché non c'è il versamento dei contributi nel corso della propria attività, del proprio percorso di vita. Grazie davvero ai nostri ospiti, come sempre tantissime domande. Vedo sul display di Maris che ne arrivano davvero uno al secondo. Grazie a Fabio Fortuna, al professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Università Unicusano. E grazie al segretario nazionale dei pensionati della CISLA, Patrizia Volponi. 24 ottobre, le rivalutazioni. Noi staremo qui. Quindi la invitiamo. La invitiamo perché saranno puntate tutte dedicate a questa questione della rivalutazione. È molto importante perché abbiamo avuto tanta gente che si è iscritta al sindacato proprio per fare questa domanda. Per fare questa domanda. Vedremo che cosa accadrà. Grazie davvero ai nostri ospiti. Maris, stasera è tutto. Eh sì, per questa sera è tutto. Grazie ovviamente anche a voi che ci avete seguito. In tantissimi ci avete chiamato e scritto. Vi ricordiamo l'appuntamento con Attenti al Lupo. È domani sera alle ore 19. Parleremo del pasto più importante della nostra giornata. Si dice che sia così la colazione. Però quanti di noi gli danno la giusta importanza e soprattutto come fare una buona e sana colazione per ogni età, ogni consiglio. Domani alle 19 con Attenti al Lupo. Buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.